Buonasera a tutti e benvenuti a questo webinar organizzato dal GIF di nutrizione che coordino. Oggi con le colleghe che vedrete relatrici abbiamo pensato di trattare un argomento che è spesso molto complicato ma che a mio avviso può essere utile quando diventa un percorso multidisciplinare non solo con il nutrizionista ma anche un percorso in cui ci si accompagna sia con il ginecologo ma anche con la psicologa ovvero la difficoltà emotiva nel seguire un piano alimentare. Questa difficoltà spesso deriva da tantissimi fattori che possono essere la vivibilità con gli altri fattori socio-economici o semplicemente anche la stanchezza che è un riflesso del percorso che si sta vivendo. Quindi vogliamo in qualche modo con questa tavola rotonda che vuole essere un po' un metodo di conversazione con tutti parlare con voi e cercare di darvi qualche spunto di riflessione affinché il percorso possa essere vissuto in modo più semplice, più empatico e meno difficile in modo tale che non ci siano sensi di colpa. E in qualche modo quello che viene vissuto porti comunque un piccolo beneficio. Detto questo vorrei porre quindi la prima domanda alla dottoressa Elena Martucci che è una nutrizionista e quindi le vorrei chiedere qual è la difficoltà più grande che riscontri nei pazienti quando si sentono vincolati a un piano alimentare per la fertilità o comunque durante un percorso PMA. Buonasera a tutti, eccomi. Grazie per questa occasione di confronto e per l'organizzazione di questo genere di dialogo che secondo me è molto produttiva, molto importante. Proprio perché le difficoltà che si hanno all'interno di un percorso di infertilità, dalla diagnosi e poi a tutto il percorso per le vie che prende, sono difficoltà con cui noi nutrizionisti, diciamo che ci occupiamo di infertilità, abbiamo a che fare in maniera, diciamo, elevata potenza rispetto ad un solo discorso, diciamo, di dimagrimento, un solo percorso di dimagrimento. Quando, diciamo, ho letto il titolo del webinar mi sono venute in mente tante di quelle difficoltà, non ce n'è una sola. Possiamo parlare del, diciamo, del desiderio della fame, che poi può essere, diciamo, è la prima che mi viene in mente, ma che può essere differenziata in tanti tipi di fame. Non abbiamo soltanto una fame fisiologica, abbiamo una fame emotiva e molto spesso questa è una delle difficoltà che i pazienti hanno nel riconoscere di quale si tratta, ma anche tutto quello che viene dopo, quello che dicevi anche tu, il senso di colpa, il senso di inadeguatezza, il senso di fallimento, ma anche di tradimento del corpo che non funziona come dovrebbe, sono cose che possono essere, che si ritrovano sia, diciamo, in un percorso di dimagrimento, ma che si ritrovano raddoppiate all'interno di un percorso di infertilità. Quindi credo che la cosa principale su cui battere nel momento in cui si incontra un paziente sia più che la motivazione, che in realtà poi non è mai un problema, almeno nella mia esperienza non è un problema, abbiamo sempre pazienti molto motivati, forse quelli che non lo sono completamente perché non sono stati correttamente informati, perché non sanno ancora quanto le loro scelte anche alimentari siano importanti all'interno del percorso di infertilità, ma è soprattutto un problema di consapevolezza, cioè ci sono degli aspetti culturali, degli aspetti del rapporto con il cibo, della, diciamo, tra virgolette della nostra area del piacere, che fanno modificare un po' l'atteggiamento nei confronti di un programma dietetico all'interno dopo una diagnosi di infertilità. In generale i pazienti partono prima da uno smarrimento iniziale, no? Alla diagnosi non siamo quasi, nessuno di noi è pronto a questo genere, anche se arrivano al centro dopo fallimenti, dopo tentativi, comunque hanno ancora una speranza, cercano che non ci siano problemi, poi in realtà una volta centrato il problema bisogna, secondo me, offrirgli l'opportunità di capire quanto loro siano centrali in questo percorso, perché una delle difficoltà con cui mi trovo spesso da avere a che fare è quella sensazione di essere esterni a tutto il percorso, che ci sia qualche entità esterna che risolve il problema e del quale, diciamo, tu non ti puoi interessare più di tanto perché non puoi fare più di tanto. Quindi forse questa è la prima cosa che mi viene in mente, aumentare la consapevolezza e mettere, diciamo, al centro di nuovo i pazienti all'interno di un percorso che li vede responsabili, partecipativi e non soltanto una ruota all'interno di un ingranaggio. A volte, diciamo, questo significa anche consentire alle persone di risistemare le proprie priorità, perché, diciamo, le difficoltà organizzative ci sono, è evidente che, diciamo, a seconda dello stile di vita, del livello culturale, ma anche delle tradizioni che abbiamo nelle varie tipologie di lavoro. Però, per mangiare quello che mangia lei, lei farebbe la stessa cosa, lo farebbe fare a suo figlio, questo tipo di stile di vita. E questo, ovviamente, rimette un po' le cose in ordine, nel senso che per i nostri figli, ovviamente, facciamo di meglio, quanto di meglio si può fare, cose che invece per noi stessi non tendiamo a fare. E questo fa sì che si reattivi una parte, un materno interno a noi, una parte di noi stessi che riesce a prendersi cura di noi stessi prima di prenderci cura, poi, di un altro essere. Secondo me, è una cosa, diciamo, che alla fine, in ogni caso, per qualsiasi tipo di finale abbia questo percorso, è un regalo che facciamo, nel senso che tornare a imparare a prendersi cura di se stessi, significa non solo consentirsi una fertilità migliore, ma, diciamo, mettersi nelle condizioni di avere una gravidanza sana, ma anche di una genitorialità sana, nel senso che queste poi sono cose che non si dimenticano. Allora, nel momento in cui entrano nel nostro stile di vita, restano nell'organizzazione che ci sarà anche per un eventuale bambino o bambina, insomma, penso che sia questa la prima cosa da fare. Ottima osservazione e sicuramente ottimo spunto. A questo punto vorrei chiedere alla dottoressa Ruggero, che anche lei è una nutrizionista e, tra l'altro, ha scritto un libro che racconta la storia di alcune sue pazienti PMA che ha visto, in qualche modo, quindi, ha descritto con empatia un vissuto. Le vorrei chiedere a Francesca quali sono i consigli che si sente di dare quando vede una grande difficoltà nei pazienti e quindi vede il paziente che arranca, che in qualche modo si sente in colpa e quindi, in qualche modo, però, poi il nostro lavoro è indirizzarlo dal punto di vista nutrizionale, no? Perché, in qualche modo, dovremmo arrivare poi a una sorta di obiettivo. Allora, grazie Veronica per questo splendido webinar perché tocca veramente degli argomenti molto vasti perché qui è come aprire un po' un vaso di Pandora, no? Quindi io poi mi occupo anche di disturbi alimentari e ricordiamoci che nella PMA abbiamo anche tante donne affette da anorissia e soprattutto da bulimia. Quindi sono anche dei vissuti che, in qualche modo, anche dopo tanti anni di percorsi psicoterapici e durante i percorsi di PMA ho visto che saltano fuori e saltano fuori in modo molto amplificato non tanto per il disturbo nell'ambito anoressico ma tantissimo nell'ambito bulimico proprio perché c'è questo stato emotivo tra ciò che è vuoto, dato da un problema di fertilità e ciò che invece è pieno, dato proprio dal desiderio di gravidanza. E questo credo che sia uno dei problemi, diciamo, proprio nel seguire un piano alimentare veramente molto più forte e molto più difficile dal punto di vista nutrizionale se non si ha un supporto psicoterapico, quindi è veramente complesso. Allora, quando io vedo delle difficoltà che possono essere date sì dall'organizzazione ma sempre un'organizzazione emotiva, nel senso che comunque anche all'interno dell'ambito familiare e anche come famiglia allargata, quindi non solo della coppia, c'è tanta fatica. Lo noto soprattutto non tanto nei primi tentativi ma nei tentativi successivi subentra la stanchezza, subentra sensi di colpa, tutta una serie di stati emotivi che identificano comunque il piano alimentare come un piano terapeutico e si arriva a un certo punto anche di stanchezza nel seguire anche il piano alimentare perché viene anche medicalizzato, no? E quando vedo questi punti di crollo, perché si arriva a un punto di crollo in realtà quello che io consiglio di fare è lavorare nei giorni buoni perché comunque il percorso della PMA è un po' come stare sulle montagne russe quindi ci sono dei giorni positivi, ci sono dei giorni negativi nei giorni negativi è difficile riuscire comunque a seguire un piano alimentare e insistere secondo me su alcuni punti poi magari la dottoressa Oieni ne parlerà un po' meglio insistere su alcuni punti magari può essere anche controproducente quindi sicuramente lavorare nei giorni buoni permette uno di lavorare bene col piano alimentare e comunque di andare a compensare quei giorni invece in cui c'è stato qualche sgarro in più poi vorrei anche sottolineare che non è lo scacchetto di cioccolato che fa la differenza piuttosto che il cornetto al bar con l'amica la mattina piuttosto che quando si è da sole a casa si apre il frigo e si mangia la prima cosa che capita sono comunque degli stati emotivi che sono difficili da seguire razionalmente e secondo me nel momento in cui trovano un minimo di sfogo secondo me è anche giusto averli perché ovviamente fanno tutti parte del percorso quindi una maggiore flessibilità quello assolutamente e nel momento in cui c'è un punto ancora più critico che è soprattutto dopo può subentrare dopo un fallimento nell'attesa tra il termine di una stimolazione e l'inizio di un'altra se c'è la necessità di mollare e di staccare anche dal piano alimentare personalmente lo consiglio tenendo magari quei consigli generali però mollare dal piano alimentare anche perché molto spesso lo richiedono proprio le pazienti cioè quello di dire adesso basta anche col piano alimentare come per dire chiudo questo capitolo chiudo questo tentativo chiudo anche il piano alimentare proprio perché viene sempre visto come una terapia quindi hanno bisogno anche di staccare da quello Sì anche perché infatti diciamo la prima cosa che il paziente fa quando un tentativo va male è dedicarsi una giornata alimentare libera è difficile che mi raccontano sono andato a fare una passeggiata o mi sono svagato in un altro modo la prima cosa che mi scrivono è mi sono dedicata a una giornata libera a livello alimentare come se proprio quella cosa gli aiutasse a gestire meglio poi il dolore del tentativo fallito o dei risultati che non sono andati magari come speravano pazienti che non sono arrivati al transfer o via dicendo quindi il tutto è relegato al cibo in positivo e in negativo loro vedono il cibo come un amico tra virgolette quando sono nella fase up e devono arrivare al pick up al transfer e come un nemico quando nel momento in cui tutto va male quello che devo fare è mangiare la pizza mangiare un gelato degli altri alimenti e che può variare da uno, tre, cinque giorni una settimana perché per loro la cosa importante è staccare da tutto in primis da quello che hanno visto in modo particolare come una costrizione il cibo e che secondo me è la prima cosa su cui possono agire perché sui tentativi devono rivedersi col medico devono riparlare e via dicendo il cibo è la cosa più facile su cui agire e a questo punto volevo anche dire che se chi ci sta ascoltando vuole fare qualche domanda c'è il box domande che leggeremo in diretta e passo la parola alla dottoressa Oieni che è la nostra psicologa e che in qualche modo quindi lei chiedo quanto credi che il lavoro di equip sia più importante perché molte persone tendono invece a fare dei percorsi molti professionisti individuali quando invece a mio avviso un approccio sinergico che sia il nutrizionista il ginecologo lo psicologo rende il lavoro d'equip un successo anche per il paziente grazie intanto mi unisco anche io ai ringraziamenti per questa bella occasione di discutere di un tema così importante così delicato e aggiungerei anche così presente perché non è raro appunto incontrare persone che prima o durante il percorso di PMA devono iniziare anche a prendersi cura del proprio corpo in questo senso e quindi sì sicuramente il lavoro in equip diventa fondamentale diventa fondamentale anche per mandare ai pazienti un messaggio importante che noi non siamo scissi cioè non c'è la mente le emozioni poi c'è il corpo poi c'è il cibo siamo un unicum bisogna anche imparare a dialogare con se stessi e a cercare di di essere in armonia con con le proprie emozioni e con il proprio corpo ascoltando le colleghe che mi hanno anticipato che ne hanno toccato dei punti secondo me molto importanti da un punto di vista psicologico noi dobbiamo comunque tenere a mente che abbiamo davanti delle persone che hanno un carico emotivo già molto molto importante molto molto significativo che sono alla ricerca di una gravidanza o che stanno affrontando un percorso di fecondazione assistita con tutte le sue caratteristiche anche con tutte le sue complessità quindi pensavo quello che diceva la dottoressa Martucci a proposito dei tanti tipi di fame della fame emotiva per esempio di quanto sia importante intanto per esempio spostare anche come dicevi tu Veronica dal cibo tutta una serie di emozioni che vengono messe lì il cibo è cibo che è una funzione importantissima oltre che nutritiva anche sociale come si diceva prima ed è poi facilissimo scaricare dare al cibo delle responsabilità che poi in realtà non ha quindi provare a proposito anche di un lavoro sinergico un lavoro di equip provare a concentrarsi invece su quelli che sono gli aspetti anche della corporeità perché nei percorsi di PMA soprattutto per le donne il corpo è al centro da tanti punti di vista c'è la terapia ci aggiungiamo magari uno schema alimentare di un certo tipo quindi per queste persone forse iniziare anche a centrarsi a riappropriarsi a riscoprire nuovamente il rapporto con il proprio corpo è sentirsi capaci di avere un potere di cambiamento in un'ottica di benessere non di devo perdere i due chili i dieci chili i tre chili soprattutto come quando abbiamo a che fare con persone che hanno una fragilità da un punto di vista magari alimentare che c'è un problema un disturbo alimentare più o meno evidente andare lì a sottolineare il numerino rischia di diventare molto molto pericoloso e allora provare a ragionare invece su quanto sia importante centrarsi ascoltare ascoltare il proprio corpo e cercare di pensare che si sta facendo qualcosa di importante per sé non soltanto per avere un figlio ma perché prendersi cura di sé è un aspetto che ha a che fare con tutte quelle parti di cui parlavamo prima con la nostra mente con il nostro corpo con le nostre emozioni e quindi sapere che dall'altra parte non hai un interlocutore che è il medico che è il ginecologo o dall'altra parte c'è il nutrizionista e poi magari faccio anche il percorso di psicoterapia ma sapere che hai un interlocutore che è un'equip di persone che sono lì ad aiutarti a rimettere insieme i pezzi per esempio e a sostenerti questa cosa dello sgarro è veramente a volte per i pazienti è molto molto faticosa oddio ho mangiato la pizza ho mangiato anche le patatine ho rovinato tutto allora stare lì a dire che non è una tragedia e che ci sono tanti modi per poter recuperare e che forse a volte lasciare andare è molto più importante che contenere che stare dentro dentro un binario imparare anche a riconoscere i bisogni fisiologici di fame di sazietà di o anche quando magari mangio quel dolcino perché sento di avere bisogno di uno di uno sfogo di uno svago ma essere capaci di dare un significato alle nostre azioni ai nostri piccoli gessi diventa diventa molto importante perché poi appunto come dicevamo prima abbiamo davanti persone che che sono già dentro un uno schema abbastanza rigido dei controlli delle ecografie del monitoraggio del rapporto mirato quindi dove tutto è regolato dove tutto è predefinito ci mettiamo anche lo schema alimentare rischia di diventare un in più e allora se questo non diventa un in più ma diventa un prendiamoci cura di questo corpo magari maltrattato di questo corpo che non funziona di questo corpo colpevolizzato e inizia a diventare magari un corpo amico il mio corpo con i suoi difetti con i suoi limiti ma anche con le sue risorse con le sue possibilità e chiaramente questo è un percorso che richiede un tempo un tempo che ciascuno si deve poter dare al di là di quelli che sono i tempi del percorso molto spesso la difficoltà quantomeno i pazienti che incontro è che magari viene detto loro un po' maldestramente no prima di iniziare un percorso devi perdere tocchili e questo diventa una grande difficoltà perché non si pensa che bisogna raggiungere ancora tempo prima di poter iniziare un percorso prima di poter affrontare una gravidanza e quindi magari si sentono sballottolati da qualche parte allora l'essere insieme essere un'equipe sapere che c'è un insieme di persone di professionisti che ti sostengono e che ti accompagnano in questo percorso io credo sia sia molto importante forse fondamentale il primo passaggio viene da dire da questo punto di vista il fatto che ci sono alcuni centri italiani che hanno inserito all'interno figure come lo psicologo proprio all'interno dei centri o come alcuni che hanno inserito anche il nutrizionista secondo me è un'evoluzione proprio per dare il supporto di equip ai pazienti e che possa in qualche modo aiutarli a veicolarli e rispetto a quello che diceva la dottoressa Ieni sul fatto di star bene una delle grandi problematiche è che il paziente non si ama quindi la donna non riesce a mettersi al centro perché fondamentalmente non si ama non si vuole bene e anche la questione del peso in qualche modo diventa autolesionistico non so se stai d'accordo sì sì certo questa diciamo è una delle delle tante varianti a proposito del fatto che poi il corpo appunto diventa il nemico il nemico principale contro cui a cui dare anche delle responsabilità questo corpo che non funziona che non accoglie una gravidanza che non è abbastanza e quindi io non funziona e non mi voglio bene per questo ritengo sia come si diceva poco anzi sia importante partire da una centratura anche di riappropriazione io sono questo con i miei limiti con le mie risorse con le mie possibilità il mio corpo non è altro da me un nemico da colpevolizzare da attaccare ma intanto sono io e allora devo ricominciare a riappropriarmi a rientrare in me ad accettarmi perché poi appunto accettarmi volermi bene diventa il passaggio il primo passaggio per potermi prendere cura di questo corpo perché se non mi voglio bene non mi prendo cura di me come diceva anche prima la collega e prima ancora di pensare di prendermi cura di un altro devo imparare a prendermi cura di me anche da un punto di vista alimentare perché questo ce lo insegnate voi in quanto poi alcune abitudini alimentari poi diventino familiari per cui se c'è un certo modo di alimentarsi una certa abitudine rispetto al cibo è qualcosa che poi inevitabilmente passa ai bambini e quanti bambini vediamo già problematiche di peso quindi diventa anche un fare cultura in qualche modo personale familiare che parte da da un concetto di amor proprio autentico però non di amor proprio e di autostima come buttati di ma vero autentico di di entrare in connessione con se stessi ma se posso aggiungere anche di far pace con se stessi perché molti pazienti arrivano e si danno delle colpe sono aumentata di peso perché la gravidanza non arrivava perché ho avuto tanti fallimenti delle volte il cibo salva cioè è stato il tuo modo di sopravvivere a quel dolore di andare avanti di tirare avanti ci sono dei momenti in cui si riesce a dedicare la giusta attenzione all'alimentazione ma se diventa se è così difficoltà diciamo qualche chilo in più forse in qualche caso è salvifico è qualcosa che ci consente di stare diciamo di superare un momento difficile quindi forse restituire anche questo un po' di indulgenza verso se stessi di qualche tempo prima di quando ancora non c'era la vera consapevolezza di dover intervenire anche o la forza di agire su questo forse aiuta anche in questa centratura delle volte mi capita che le pazienti mi dicono sì ma se il tentativo va male io voglio continuare perché mi rendo conto che questa è una cosa che mi sta facendo del bene altre volte e non è così infrequente le pazienti dicono sì ma poi io non vengo più cioè non ce la faccio a pensare di continuare e là secondo me al nutrizionista devono cominciare a suonare un po' di allarmi nel senso che il nostro scopo è anche quello poi di richiamare lo psicologo l'esperto di infertilità e sottolineare questo tipo di atteggiamento perché questo può essere un pericolo noi non possiamo garantire al cento per cento la gravidanza a tutti i pazienti che accedono al centro magari potessimo e sarebbe diciamo il lavoro più bello del mondo ma in realtà questo non è a volte diciamo non succede e noi dobbiamo essere pronti anche a contenere l'esito di un fallimento di un ciclo di un tentativo andato male e se i pazienti ci danno la possibilità di entrare in contatto con loro abbiamo il dovere poi di segnalare quando il percorso che stanno prendendo non è quello giusto dal punto di vista delle aspettative quindi credo insomma che il contatto con lo psicologo sia qualcosa di imprescindibile soprattutto in termini di infertilità non si può non lavorare con braccio a braccio insomma anche perché spesso passo un messaggio sbagliato che segue il piano alimentare e sicuramente va bene e quindi nel momento in cui va male la colpa è del piano alimentare che non ha funzionato e questo colpevolizza anche il professionista no? Perché ti dicono che la mia amica ha seguito il piano di X ed è andata bene a me perché non è andata bene il piano non ha funzionato perché dovevo mangiare questo piuttosto che quest'altro e quindi diventa tutto una grande discussione su dei meccanismi che sono soggettivi no? Perché per ogni persona poi ci sono terapie soggettive come dalla PMA a qualunque terapia anche dal punto di vista nutrizionale però spesso quando mi scrivono che statistiche ha di successo o mi assicura che andrà bene io gli dico che non sono la persona giusta per seguirli perché non ho statistiche non è il mio lavoro fare statistiche almeno in questo campino in altri sì ma in questo no e che non posso dare una sicurezza al cento per cento perché venderei fumo fondamentalmente e questo però è anche un po' i messaggi che passano da un mondo social su tante cose si cerca la clinica in base ai successi cosa che è naturale come voglio dire cerchiamo il medico in base a quanti risultati ha fatto ad avere di benessere a qualcuno e quindi c'è la ricerca del professionista perfetto il piano perfetto perché sicuramente andrà bene e poca discussione su io però che cosa faccio perché ti demanda a te la responsabilità di darmi quello che deve essere il piano perfetto ma la mia responsabilità di seguirlo e di non chiederti mille cambiamenti perché mi devo poi adattare alle mie abitudini lì ci perdiamo quello che poi diciamo spesso succede no di responsabilizzarsi voler pensare che non si entra in un centro di infertilità o in un centro di cura ma in una fabbrica dove diciamo sicuramente vieni fuori con il bimbo in braccio è il nostro compito quello di sottolineare proprio questo quello che dicevi che parliamo di cose complesse di cose molti che hanno diciamo degli inizi multifattoriali non è soltanto perciò c'è bisogno di tanti specialisti che si occupino ognuno per sé e integrandosi con l'altro in maniera completa e magari si potesse dare una percentuale sempre sarebbe comodo anche da parte nostra più facile invece non è così non so Francesca se anche a te dicabitano queste esperienze di ricerca di figurezze certe sì assolutamente tanto sull'alimentazione tanto su le problematiche intestinali quindi pensano che risolvendo questo ottengono ovviamente la gravidanza tanti cercano la dieta della fertilità e quindi far capire appunto che è un prendersi cura di sé in primis come persona e far capire che comunque per prendersi cura di sé serve tempo quindi non si può richiedere un qualcosa con l'alimentazione in un lasso di tempo brevissimo quindi qualsiasi percorso debbano fare che sia una perdita di peso che sia una corretta alimentazione c'è bisogno di tempo e quindi questo è un qualcosa anche che non alcune volte non viene preso in considerazione come se ci fosse una battetta magica poi nel momento in cui invece quello che io riscontro tanto che se invece c'è di mezzo una patologia come per esempio può essere un'endometriosi in realtà il piano alimentare viene seguito di più semplicemente perché si lavora sul sintomo quindi quando c'è un sintomo nel momento in cui con un piano alimentare riusciamo a migliorare la qualità di vita che può essere anche una riduzione comunque di antidolorifici perché comunque col piano alimentare riusciamo a ridurre determinate problematiche soprattutto intestinali allora lì effettivamente la donna si dedica del tempo si dedica al piano alimentare perché sta meglio ma lì ovviamente è tangibile il risultato lì dove non è tangibile allora si perde appunto quello che stavamo dicendo il prendersi cura di sé sì che 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 dovrebbe essere la prima cosa nel senso fare un percorso per prendersi cura di sé che possa essere anche la parte psicologica la copuntura altre tecniche olistiche la meditazione che possono anche andare di supporto penso alla psicologia voi consigliate poi dei meccanismi anche di meditazione che possano in qualche modo aiutare la paziente ok avevo sbagliato a cliccare il pulsante sì dipende sempre anche dalla persona che hai davanti che tipo di esigenze ti porta che tipo di personalità anche ha e quindi riuscire a rintracciare quali possano essere per quella persona le strade migliori per prendersi cura di sé che possa essere per alcuni l'acopuntura lo yoga o anche fare attività fisica perché prendersi cura di sé l'abbiamo detto tanto può avere tante sfaccettature o anche stare a casa e leggersi un buon libro insomma a volte anche fermarsi semplicemente è un ottimo un ottimo tempo dedicato io appunto ho spesso la sensazione a proposito della dieta per la fertilità o del faccio faccio questo molto spesso mi capita di ascoltare dalle mie pazienti sto facendo questo sto facendo questo sto facendo questo così mi preparo nel migliore dei modi quindi portare fuori di sé in qualche modo cercare di spostare l'angoscia la paura perché quello che tu desideri tanto non si possa realizzare allora lo porti fuori di sé cercando di controllare tutta una serie di cose che pensi di poter controllare che sia il cibo che sia lo sport che sia un certo tipo di esercizi in realtà poi quello che è veramente importante a proposito di tempo a proposito di di cura dei propri bisogni psicologici è semplicemente imparare anche a tollerare la frustrazione di percorsi che certezze non te ne danno e che quindi se io seguo un percorso alimentare perché magari sono sovrappeso perché ho bisogno di stare meglio lo faccio innanzitutto per me perché è importante stare bene poi se io riuscirò a ottenere ad avere un percorso di PMA positivo ad avere un bambino anche averne più di uno è un in più sicuramente è una realizzazione di un desiderio di un progetto familiare ma che è parallelo al bisogno principale che è quello di prendermi cura di stare meglio di stare in un corpo che sento anche accogliente perché poi si parlava prima di maternità maternità intanto è accogliere che non è soltanto accogliere una gravidanza o accogliere un figlio è anche accogliere le difficoltà accogliere le proprie frustrazioni e prendersene cura guardarle e cercare di tirar fuori le risorse per cui anche a proposito della domanda è molto importante capire ciò di cui ciascuno ha bisogno perché non tutti abbiamo bisogno delle stesse cose c'è chi ha bisogno di fermarsi c'è chi ha bisogno di muoversi c'è chi ha bisogno di allontanarsi c'è chi ha bisogno di sospendere e allora insieme riuscire a guardare i pazienti in questo modo ad aiutarli anche a guardarsi a guardare la coppia perché poi magari ci stiamo concentrando un po' più sulla parte femminile ma noi abbiamo coppie che affrontano i percorsi quindi magari anche pensare a un piano alimentare che coinvolga entrambi sicuramente penso che possa essere molto più possa avere molto più successo piuttosto che uno dei due che mangia in un certo modo e l'altro che poi torna a casa con le patatine magari ogni sera è un po' complicato allora pensare anche a questo significa mettere al centro mettere al centro la coppia che è all'interno di un percorso già di per sé molto molto stressante molto molto faticoso ma ci tengo a ribadire dove il seguire un piano alimentare sano dal mio punto di vista ha a che fare con un'ottica di benessere personale soggettivo di coppia e di famiglia non sono cose che sono finalizzate a io credo che che è molto importante che passi questo credo sia molto importante che questo messaggio passi perché altrimenti si rischia appunto di fare questo processo di scissione di portare fuori delle cose come dicevo prima faccio la dieta allora mi scrivo in palestra allora faccio quello avendo l'idea di controllare tutto e di gestire tutto così poi la gravidanza arriva in realtà non è così poi sappiamo un po' come funziona l'uomo però la dieta cioè se ci si mette è più bravo della donna nel senso che magari ci mette un po' a decide io magari ecco è coinvolto dalla moglie o dalla compagna nel percorso alimentare però io ho riscontrato e adesso di uomini insomma ne ho seguiti diversi che la fanno più seriamente cioè si mettono il piano è quello e hanno meno richieste di cambiamenti o di adattamenti cioè una volta che c'entrano c'entrano a piedi pari e questo secondo me gli dà anche in qualche modo una maggior stabilità di vivibilità del piano perché nel momento in cui tu lo fai ma vorresti mangiare altro vorresti un cambiamento vuoi diversificare e quello è così e quello è là non sei stabile ma stai in qualche modo girando tra mille cose non so Francesca se tu sei d'accordo sì l'uomo segue molto di più quello che io ho visto è anche per due motivi allora il primo è perché nel 90% dei casi trova già tutto pronto è molto più semplice a livello pratico e organizzativo secondo perché effettivamente ha meno dinamiche emotive e quindi ha meno stati emotivi che coinvolgono il cibo come una comfort zone ecco oppure come uno sfogo io cioè è più la donna che se è nervosa che se è stressata che se è frustrata si sfoga col cibo l'uomo non lo fa l'uomo magari se è uno che è attento un po' di più al proprio fisico magari si allena oppure si va a fare un giro in bicicletta quindi anche a livello emotivo secondo me l'uomo ha delle dinamiche molto più semplici della donna anche perché diciamo che la responsabilità viene spesso più data alla donna in un percorso di ricerca di a meno che non ci siano delle particolari cause importanti però la donna o è sovrappeso o è vecchia cioè queste sono più o meno le due condizioni no? quindi da questo punto di vista è quella più martoriata a livello psicologico di responsabilità da parte dei medici e quindi in qualche modo le pesa giustamente di più perché a 35 anni alcuni già consigliano l'eterologa che non è facile perché a 35 anni io penso che se siamo giovani forse perché ne ho 46 e penso di essere giovane però sentirsi appunto dire anche queste cose sempre che la qualità vocitaria non va bene perché c'è una certa età l'MH non va bene perché è una certa età e via dicendo giustamente psicologicamente non aiuta non è quello che uno si vorrebbe sentir dire nel momento in cui approda a un centro a un medico fondamentalmente ma un minimo di statistiche positive perché poi i medici parlano su statistiche no? Quello che riferiscono le pazienti è che mi hanno detto che ho 8% di 8% di questo di quest'altro e quindi per loro diventa difficile in generale io credo anche che proprio all'interno del percorso per quanto di coppia tenendo fuori ovviamente problematiche in particolare strettamente maschili l'impegno vero fondamentalmente è femminile nel senso che nella gran parte dei casi abbiamo controlli serrati ecografie e diciamo somministrazione di farmaci e comunque c'è un impegno proprio del corpo femminile diciamo in misura sicuramente maggiore rispetto al maschile forse diciamo qualcosa sta cambiando nella gestione delle scelte alimentari nel senso che io mi ritrovo sempre di più e diciamo la mia io lavoro a Napoli quindi diciamo la mia è una realtà del sud dove per cultura sono le donne a cucinare e diciamo a preparare a provvedere alla tavola devo dire che insomma qualcosa vedo di diverso nel senso che vedo anche che il pubblico maschile che i mariti i compagni si cominciano ad interessare di più di questi aspetti quindi forse troviamo diciamo possiamo finalmente cominciare a parlare di parità anche in questo senso però sicuramente la fame emotiva quella che poi forse è un fenomeno un po' più femminile che maschile anche nella mia esperienza magari imparare a distinguerla potrebbe essere diciamo un primo passo però provare a capire di che si parla quando ho fame perché ho fame perché il mio corpo è affamato e quando invece lo è la mia mente per tante ragioni quindi forse magari parlare di questo è importante nella mia esperienza almeno quello che dico ai pazienti che la fame quella che arriva gradualmente quella diciamo che riusciamo a tenere a bada che se stiamo tornando a casa ci consente di arrivare a casa e poi mangiare è una fame fisiologica è una fame che non improvvisa e che diciamo non non ha tanta selezione nel senso che se abbiamo fame mangiamo quello che abbiamo a disposizione mentre la fame emotiva è una fame improvvisa una fame specifica nei confronti di un tipo di alimento ed è difficilissimo tenerla a bada diciamo cercare di placarla magari già questo diciamo può essere d'aiuto a noi donne che magari siamo un po' più in preda alla fame emotiva rispetto anche per altre ragioni fisiologiche no ma anche semplicemente le oscillazioni ormonali di un ciclo mestruale fisiologico ci possono portare a vedere delle scelte alimentari diversi o dei desideri diversi che non sono necessariamente legati alla fame fisiologica questo può essere magari un gancio qualcosa che i pazienti che ci stanno sentendo che i colleghi che ci stanno sentendo possono trovare come spunto per come chiave diciamo per risolvere qualche problema dal punto di vista psicologico invece tu che consigli daresti quando appunto c'è il problema della fame cioè come in qualche modo districarsi in questa esigenza di spizzicare di in qualche modo attaccarsi a delle cose pur di sentire lo stomaco pieno perché poi anche lì secondo me qualche meccanismo psicologico può essere di aiuto condivido in pieno quello che diceva la dottressa Martucci cioè sicuramente la prima una tra le prime cose è quella di imparare a riconoscere i segnali fisiologici cioè cos'è fame veramente fame cos'è sazietà cioè quando è che sono sazio cioè non è quando il cibo mi sta arrivando no alla gola e che cosa effettivamente in quel in quel momento sta accadendo se ho fame o se è noia se è sconforto se sono magari molto nervosa in quel momento per cui qualsiasi cosa faccio per cui anche mangiare va bene quindi sicuramente molto importante sicuramente fermarsi in quel momento lì e chiedersi cosa cosa c'è è fame ho veramente bisogno di mangiare qualcosa perché sono otto ore che non mi alimenta e quindi forse effettivamente ho bisogno di fare uno scuntino di nutrirmi perché il mio corpo me lo sta chiedendo o è qualcos'altro quindi sicuramente questo implica una grande capacità di fermarsi di farsi delle domande di conoscersi però diventa cioè quello di fermarsi di non cadere dentro un circuito che è spesso quello che si fa magari con i pazienti che hanno un disturbo alimentare no in preda un episodio di di binge eating per esempio fermati cerca di di mentalizzare per esempio anche scrivere a volte viene consigliato di fare un diario alimentare in alcune situazioni ma sicuramente di fermarsi e di chiedersi ho veramente fame c'è un bisogno fisiologico che cosa mi fa posso fare qualcos'altro no cioè e riconoscere perché questo oltre al magari non ricadere nel comincio a spizzicare qualsiasi cosa e poi finisce che mangio una quantità di roba non necessaria che non mi fa bene mi serve anche per per guardarmi dentro per ascoltarmi perché sicuramente c'è uno stimolo di di un qualche tipo che è probabilmente emotivo allora chiedermi questo stimolo con che cosa a che fare no in questo momento mi sento triste forse e voglio rimangiare quella cosa che mi piace tanto allora perché sono triste no cioè sicuramente fermarsi e mentalizzare un'emozione e pensare che cosa mi sta succedendo quello diventa diventa fondamentale è il primo passo per imparare a destreggiarsi in tutte queste emozioni vorticose come come si diceva e sicuramente no per agganciarmi anche un attimo le donne il corpo della donna lo abbiamo già detto è al centro no è veramente da un certo punto di vista martoriato per questo io credo noi psicologi crediamo che pensare alla coppia a 360 gradi sia importante perché fa sentire la donna non soltanto meno sola ma anche meno responsabile cioè non dipende tutto da me quindi se io sbaglio qualcosa è la fine allora andrà tutto male allora questo processo di di responsabilizzazione non in termini lavativi cioè quello che succede succede ma in siamo insieme dentro un progetto ciascuno mette la propria parte perché sì è vero gli uomini sono da un certo punto di vista meno coinvolti perché la natura ha predisposto così però anche loro devono fare la propria parte ed è importante che la facciano bene così come la fanno le donne ed essere e sentirsi entrambi ugualmente coinvolti con le con le diversità che ci sono mentali fisiologiche emotive cioè uomini e donne sicuramente non funzioniamo allo stesso modo ma è altrettanto importante dare spazio anche alle emozioni ai pensieri agli atteggiamenti di chi di chi sta accanto e questa è anche una strategia secondo me vincente cioè non lasciare la donna sola in tutto in tutto questo no? sentire e imparare anche una cosa un suggerimento che io quando mi è capitato di dare no? è quello di anche di trovare una distrazione se in quel momento mi rendo conto che quella che ho non è fame ma è un altro tipo di bisogno allora trovo un altro tipo di risposta che non è mangiare magari il cioccolatino un pacchetto di patatine o un pacco intero di biscotti ma fare qualcos'altro che magari mi dà anche un benessere più autentico che sia appunto fare una passeggiata chiamare mio marito chiamare un'amica o fermarmi scrivere no? io invidio molto che anche delle capacità artistiche perché magari questo può essere sollecito sempre anzi chi ce l'ha può essere un importante aiuto perché metto lì trasformo qualcosa trasformo un'emozione in qualcosa di produttivo creo ed è una grande capacità ed è una grande possibilità secondo me da poter mettere in gioco beh come hai detto sicuramente la creatività o la parte artistica tira fuori le emozioni e quindi per chi ha questa capacità che può essere da scrivere disegnare dipingere fare lavori manuali legno a maglia via dicendo può poi veicolare in qualche modo le emozioni in quello che fanno quindi può essere un giusto strumento anche per gestire meglio sia la fame emotiva ma anche la tristezza che in quel momento avvertono va bene io non vedo domande da parte di chi ci sta seguendo e vi ringrazio per aver partecipato a questo webinar vi ringrazio moltissimo è stato un ottimo spunto di riflessione su tantissimi argomenti che spero possano essere d'aiuto a chi ci ha ascoltato a chi l'ascolterà e vi auguro una buona serata grazie a tutti grazie a te ciao buona sera a presto ciao ciao